Marco Santucci, non solo bene in campionato, ma la Spike si aggiudica anche la Coppa Italia di Serie B. Complimenti! Grazie, complimento alla squadra, che abbiamo giocato veramente da squadra. Siamo partiti un po' in difficoltà e ci siamo aiutati l'un l'altro. Abbiamo avuto alti e bassi, però alla fine abbiamo cercato di trovare una quadra e il quarto set si è visto. Noi sono stati molto bravi a metterci in difficoltà in ricezione, che è un fondamentale che di solito a noi non va così male. Però siamo stati bravi a gestire questa situazione in difficoltà e faccio complimenti a miei compagni. Da capitano, da mentore, da Campobassano soprattutto, quanta emozione c'è? Tantissima emozione, io tenevo a questa manifestazione anche per portare questo sport a Campobasso, cosa che ripeto continuamente, per motivare l'ambiente, per motivare il movimento, per aumentare magari la gente che si afficina a questo sport. E penso che questa manifestazione abbia contribuito a tutto questo. Pubblico davvero di grande rispetto tra semifinale e finale. Sì, penso che ci siano state più di mille persone, due mila persone non lo so. È uno spettacolo averli così e spero che continueremo a fare questi risultati anche grazie a loro. Avete avuto modo di affrontare anche squadre diverse rispetto al campionato? Le migliori d'Italia? Sì, per adesso la migliore siamo noi. Poi è tutto da vedere, per adesso ce l'abbiamo fatta, siamo contentissimi così, perché ce lo meritiamo, per i sacrifici che abbiamo fatto, per le difficoltà che abbiamo incontrato durante la partita e per la società che contribuisce ogni giorno a questo movimento. Grazie.